E ancora a vertenza lavoro i 18 lavoratori, tra i quali assistenti sociali, psicologi, sociologi, educatori professionali e animatori di comunità impegnati in attività di assistenza sociale e materiale nei comuni di Quarto, Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida dell'ambito sociale 4, ieri mattina hanno chiesto ed ottenuto un incontro urgente con il sindaco Sauro Secone per chiedere un suo intervento in merito al blocco delle proroghe e dei loro contratti annuali. Dal 2002 essi compiono attività per conto dell'ambito sociale di zona con contratti annuali scaduti lo scorso 19 febbraio. Da quanto mi hanno detto questi lavoratori, i servizi sociali che fanno capo a circa 4.000 persone in difficoltà nei comuni Flegrei sono stati bloccati per il mancato rinnovo delle proroghe che dipendono dal comune di Pozzuoli, quale ente capofila, sottolinea il sindaco di Quarto, Sicone. È una vergogna che tante persone in difficoltà restino senza la possibilità di un'assistenza, così come è assurdo continuare a mortificare la professionalità di tanti operatori sociali che ancora attendono di essere stabilizzati. Non siamo più disposti a tollerare altri ritardi da Pozzuoli e se non verranno firmate le proroghe, noi proporremmo ufficialmente l'uscita del comune di Quarto dall'ambito sociale 4, staccandoci da Pozzuoli per aderire all'ambito sociale di zona con Marano, perché non ci sentiamo più tutelati da Pozzuoli. Sicone poi interviene anche sull'ipotesi del nuovo bando per la copertura dei 18 posti. Propongo, dice, di rimandare ogni decisione sul nuovo bando a dopo le elezioni, in modo da evitare eventuali strumentalizzazioni, conclude il sindaco. In ogni caso questi lavoratori hanno bisogno della proroga, così come i pazienti in cura. La Regione Campania a casa tua è il titolo scelto per la manifestazione organizzata dall'URP della Regione Campania, in collaborazione con l'URP del comune di Quarto e l'assessorato alla pubblica istruzione e cultura di Quarto, guidato dal professor Mimmo Tiseo, che si è tenuta questa mattina nel piazzale Europa. Centinaia di cittadini quartesi hanno visitato il bus con all'interno uno speciale front office per avere notizie utili sui più svariati temi, dalla salute alle tasse automobilistiche ai bandi di concorso. Abbiamo scelto di fare tappa quarto, d'intesa con l'amministrazione comunale, per portare nel senso pieno del termine la Regione Campania a casa dei suoi cittadini, dice l'avvocato Nicola Gala, funzionario dell'URP della Regione. Offriamo numerosi e gratuiti servizi agli utenti che possono avere informazioni utili grazie ad un nuovo concetto di pubblica amministrazione che è al servizio degli utenti. Nel corso della mattinata ha fatto visita al bus regionale anche una delegazione di studentesse dell'Istituto Superiore di Quarto, diretto dalla dirigente scolastica Daniela Sciarelli. Ascoltiamo nel prossimo servizio sia l'avvocato Gala che l'assessore Tiseo. Avvocato Nicola Gala, responsabile funzionario del servizio URP della Regione Campania, stamattina qui a Quarto con un pullman il cui titolo con la Regione e l'Europa a casa tua. In che cosa consiste questa iniziativa? Come Regione tendiamo ad avvicinare questa importante istituzione ai cittadini attraverso la giusta mediazione dell'ente locale, perché l'ente locale è il primo momento di vita istituzionale che i cittadini si trovano ad affrontare, oggi però l'ente locale deve aprire un po' la sua cultura, anche le sue attività, quello che l'ente regione può dare attraverso la grande apertura ai finanziamenti europei. Quali sono le iniziative in corso e quali informazioni date attraverso questo pullman itinerante? Attraverso il pullman itinerante creiamo soprattutto una collaborazione con le istituzioni locali che possono avvalersi degli uffici regionali per avere tutte le informazioni in materia di finanziamenti dall'ambiente ai lavori pubblici, all'urbanistica, alla scuola. Questa mattina infatti abbiamo come interlocutore l'assessore alla pubblica istruzione e si discute indubbiamente di politiche scolastiche, il progetto Erasmus, perché dobbiamo aprire i nostri giovani ma anche gli enti locali a quello che è un senso di cittadinanza europea. Assessore, quindi un'iniziativa in favore sempre dei cittadini per dare quanto più servizi possibili di informazione soprattutto? Certamente, in realtà a me fa molto piacere che l'Avvocato Nicola Gale ci abbia contattato perché poi è un modo questo di rendere veramente una comunione con i vari comuni della Campania. Certamente questo serve a dare informazioni ulteriori ai cittadini e chiaramente il passante che vede una struttura anche per curiosità tende ad avvicinarsi e poi alla fine si accorge che la sua curiosità viene premiata da informazioni corrette che gli vengono date su problemi che casomai teneva dentro si sé ma non riusciva ad esprimere. A me personalmente preme molto l'informazione da dare ai ragazzi, soprattutto perché, come diceva l'Avvocato qui precedentemente, ormai i nostri confini sono aperti, non siamo più il campanile soltanto ma siamo in Europa. I ragazzi certamente rappresentano il nostro futuro, quindi chiaramente è importante soprattutto verso di loro di dare tutte le informazioni possibili, soprattutto anche in ambito sanitario che a me, come sai, preme perché è anche il settore di provenienza. Osare vincere, osare lottare, abbiamo un mondo da conquistare. All'insegna di questo slogan, sabato scorso la Consulta dei Giovani ha inaugurato i locali del Centro Giovani che affacciano sul piazzale Europa. Musica, proiezione di documentari e degustazione di dolci e vino locale hanno animato i festeggiamenti per l'inaugurazione di questo spazio di espressione dei giovani quartese, durante i quali si è svolta anche una raccolta di firme per dichiarare quarto città antirazzista e antifascista. Ne parliamo con Giorgio Rollin e Diego Leugio, rispettivamente presidente e membro del direttivo della Consulta dei Giovani. Presidente della Consulta dei Giovani, finalmente con questa manifestazione si inaugura la sede che da tanto tempo aspettavate? Sì, quest'oggi abbiamo deciso appunto di fare questa manifestazione, nonostante purtroppo la sede non ci è stata ancora concessa, proprio perché ci sono dei problemi con la scala antincendio della scuola Viviani e quindi i locali non sono agibili in quanto stanno facendo i lavori. Quest'oggi abbiamo comunque deciso di fare l'iniziativa proprio per incominciare a fare un po' di aggregazione giovanile sul territorio, far esibire nuovi giovani gruppi, significa appunto aggregarli e farli partecipare comunque a un progetto che è quello della Consulta di aggregazione giovanile sul nostro territorio. E a proposta di aggregazione giovanile state facendo una raccolta firme soprattutto fra i giovani per fare cosa, Diego? Sì, stiamo facendo una raccolta firme per dichiarare quarto comune antifascista e antirazzista. Dichiarare quarto comune antifascista significa evitare di concedere spazi, come è stato fatto per il primo maggio, a partiti che si rifanno a quello che è il fascismo, proprio perché la Costituzione vieta la ricostruzione del partito fascista e perché comunque ci sono stati dei precedenti per queste cose. La raccolta firme sarà poi presentata a chi? Con la raccolta firme noi ve la presenteremo a tutti i consiglieri comunali e al sindaco, sottoscritta a quanti la vorranno firmare, anche associazioni e partiti sul territorio. Per chiedere? Per chiedere appunto che questo tema venga discusso all'interno di un consiglio comunale, dove magari verranno invitati anche i membri della Consulta per partecipare e ampliare la discussione con i nostri politici locali. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie ancora e buona serata. Grazie ancora e buona serata.